Michele Quaranta, sotto capo e atleta di cannottaggio del gruppo sportivo Marina Militare e Alessandro Porcelli, pallavolista che ha militato in superlega con l'ex Privia Molfetta rappresentano una chiara dimostrazione di come sia possibile conciliare in maniera proficua il duro impegno profuso con le attività agonistiche con lo studio. L'Università degli Studi di Bari ha così festeggiato il traguardo tagliato dai primi due atleti di interesse nazionale che hanno conseguito la laurea in scienze delle attività motorie e sportive grazie al percorso virtuoso intrapreso dall'Ateneo Pugliese attraverso l'adozione del regolamento studenti-atleti. L'Università di Bari ha fortemente voluto introdurre nel proprio ordinamento il regolamento degli studenti-atleti e quindi contemplare e prevedere agevolazioni e forme di sostegno al diritto allo studio dei nostri migliori atleti. Sono tanti, quasi un centinaio di studenti-atleti che hanno deciso di iscriversi nella nostra Università e di continuare i propri studi e ovviamente coltivare la pratica sportiva. Condizione è l'eccellenza aver raggiunto dei traguardi e naturalmente ci auguriamo che i traguardi possano essere sempre più elevati e soprattutto coronati da riconoscimenti sia sportivi che accademici. Studio e sport dunque, due percorsi che possono andare di pari passo. Parola di due neodottori e atleti. Devo dire la verità, io mi sono davvero trovato bene anche perché ho trovato una grandissima disponibilità da parte dei professori e poi hai problemi, non problemi, hai necessità di nuovi atleti perché purtroppo conciliare studio e allenamento è difficile. Quindi sì, è abbastanza proficua. Secondo me il Collegio Americano è un esempio da seguire, però ultimamente vedendo questi progetti del CUS Bari vedo in prospettiva che ci stiamo avvicinando molto e la cosa può solo che far piacere a noi, a noi gente di Bari e comunque a tutta l'Italia, può essere ad esempio. Io voglio dire a tutti gli studenti, sia universitari che collegiali come scuola superiore proprio. Io penso che lo sport sia importante anche a crescere, a imparare a vivere, quindi non rinunciate mai a quello che sono le vostre passioni come lo sport, come la musica, perché vi permettono veramente di diventare persone migliori.